Si è svolto a Bari il Consiglio Generale della Fisascat CISL. Obiettivo della sigla sindacale è quello di continuare a sostenere e lottare per tutti coloro che rappresentano la categoria del terziario. Per loro, ha detto la segretaria Miriam Ruta, non dobbiamo fermare il dibattito al nostro interno. Il 2020 è stato l'anno della pandemia e il ruolo della contrazione è stato fondamentale. Giuseppe Boccuzzi ha spiegato inoltre quanto sia importante adesso puntare sulla ripresa economica occupazionale nel settore del commercio e del turismo. Abbiamo dei dati incoraggianti che prevedono un PIL in crescita al più 6% a fine anno e bisogna assolutamente legare alla ripresa del PIL anche la ripresa del lavoro nella sua qualità e nella sua quantità. In primis a partire dal settore del terziario che è stato uno dei più massacrati dalla crisi pandemica. In questo settore chi poi ha pagato il caro prezzo della crisi pandemica sono stati soprattutto giovani e soprattutto le donne. Stiamo recuperando tanto lavoro ma lo stiamo recuperando a termine e quindi vorremmo invece puntare su una crescita duratura da un lato ma che dia lavoro stabile e soprattutto sicuro. La nostra sfida innanzitutto sarà quella di continuare a contrattare a tutti i livelli, a livello interconfederale ma soprattutto a livello categoriale. La contrattazione è stata essenziale in tutte le fasi in questo periodo di pandemia quindi lo scopo è quello di avviare riflessioni, valutazioni in ogni luogo di lavoro all'interno della federazione e anche a livello confederale. Questo perché sarà necessario parlare di ammortizzatori sociali, sarà necessario parlare di politiche attive del lavoro.